Come si chiede i collegamenti fra i vari gruppi? Non si chiedeva, nessuno doveva sapere dell'altro, io non sapevo mai che c'era la fine di un trasporto fatto da me, l'altro non sapevo che ero io che prelevava la sua roba e quando, erano tutte cose fatte proprio appositamente perché agnuno, non dimentichiamoci ragazzi, che il metodo fondamentale che usavano era quello della tortura per ottenere i nomi. Sono verificati episodi in cui gente disgraziata, nel senso disgraziata per il dolore, per quello che soffriva, ha fatto dei nomi che neanche esistevano oppure dei nomi di persone che non c'entravano assolutamente. Perché erano vere torture, vi assicuro che i tedeschi in questo erano buoni maestri. Noi comunicavamo quindi indirettamente, indirettamente perché si lasciavano dei segnali particolari quando si trattava di informazioni, si lasciavano dei materiali in un certo punto e questi punti cambiavano continuamente perché ti arrivava l'avviso, l'avviso orale a volte anche, e lo portavano quasi normalmente le donne, chissà perché davano più fiducia forse anche degli uomini in questo senso, o forse perché si pensava che non torturassero le donne come torturavano gli uomini. Era anche un pensiero sbagliato perché i tedeschi non guardavano a uomo o a donna, quando volevano qualche cosa lo tenevano dall'uno o dall'altro. Fatto sta che per esempio una comunicazione fondamentale la faceva una signora tuttora vivente che abitava una casa in friggio alla Valle Santa. La Valle Santa sugli argini c'era almeno un piano e mezzo di una costruzione a tre piani, strana per quei tempi, che rappresentava praticamente un'antica casa di guardia dei padroni, dei terreni circostanti. E a seconda di come lei disponeva, o la biancheria alla finestra per assiugare, o le persiane chiuse, non chiuse, chiuse solo uno, non chiuse l'altra, oppure la persona stessa che si affacciava rischiando molto alla finestra, in atteggiamento particolare, o anche solo diritto, con una mano alzata, poteva voler dire tutto, e dentro l'osservatore per i partigiani che raccoglieva queste notizie. Logicamente erano i metodi di comunicazione più normali, tranne poi, spesso a volte di notte, quando ci si incontrava, e allora erano altre cose, insomma, ci si incontrava più che altro per azioni, e le azioni venivano condotte con una preparazione meticolosa, in cui l'unica preoccupazione era di fare in modo che non avesse subire le ripercussioni della popolazione, specialmente con le rappresaglie, che è stata la pesaglia famosa, qui per noi è famigerata, è logicamente terribile, è quella di Filo, per i fucilati del Ponte della Bastia e dei dintorni, che erano tutti di Filo, ma guarda caso, lì è avvenuta la morte di uno, pare di fosse un collaborazionista, fra l'altro, un collaborazionista polacco, o i prigionieri fatti nella loro invasione dei paesi, che aderivano firmando, i cosiddetti firmaioli, erano quelli che aderivano alla collaborazione con i tedeschi, qualche d'uno addirittura facendo con loro, armato di tutto punto, qualche d'uno invece solo per i servizi di supporto, e uno di questi morì. Quindi a quel che pare, detto anche sul posto, perché non si sa bene, ma non si sa bene, si esclude senz'altro l'intervento di un partigiano, di uno che abbia ammazzato una persona che non aveva nessuna responsabilità, eccetera, pare che sia stato in una, ubriachi, abbiano litigato fra di loro, un militare abbia ammazzato l'altro. Ho trovato il militare morto, era una buona scusa, una buona occasione, per dimostrare quanto fossero temibili. E così hanno fatto questo raccolto di dieci persone, perché si diceva che per ogni tedesco morto, o per ogni collaboratore morto, dovevano andare dieci civili, e c'era questa misura che doveva frenare i cosiddetti banditi. E allora, quello lì fu un caso di quello, non so benissimo perché, quando è stato il momento della scelta, indicato da chissà chi, finirono in questo esempio di dieci persone, non a caso dieci cittadini, ma quei dieci che erano già passati per il tribunale speciale e considerati antifascisti, eccetera, eccetera. E i collegamenti appunto venivano in questo modo, dopodiché si procedeva, a seconda delle indicazioni nuove, ci voleva anche delle fantasie per trovarli, c'erano delle cose anche che, proprio a pensarci bene, quando io affidavo la mia vita ad un bacchetto che appoggiava su di un argine, passava qualche d'una, dava una pedata senza volermi, spostava il bacchetto, diventavano tutti controordini, cose del genere. Per cui erano momenti proprio in cui si viveva molto, molto, anche dando sulla fortuna, chiamiamola così, sul caso. Allora no, c'era il Criado d'Argento, c'era addirittura questo in periodo prima della Resistenza, in periodo clandestino, in cui c'erano solo gli antifascisti organizzati clandestinamente, e che avevano i nominativi in una bottiglia come quella che fa il naufrovo quando lo butti in mare. E il responsabile era un mio buon conoscente, un amico, che in questa bottiglia l'aveva nascosto nel suo terreno, nel portiere del suo terreno, da certa profondità, in questa bottiglia, mettendo dentro l'elenco, perché anche lui non mi conosceva, queste persone intanto doveva rintracciarle. La prima bomba di Pippo che buttò per caso, finì nel suo giardino, sollevò il terreno, fece un cratere, non molto ampio, ma comunque di un paio di metri, al mattino quando lo scienzò, sulla ciba del terreno sbosso, c'era la bottiglia, con dentro che si vedeva benissimo, sembrava un messaggio buttato nell'acqua da un mafrago, insomma, e dentro c'erano i nomi, e quindi una cosa anche abbastanza... Quindi tutto era affidato a volte anche alla sorta, insomma.